Viviamo nel bel paese, ma spesso ci sfugge quanto sia straordinario. Il tempo scorre così velocemente che non riusciamo a cogliere e ad apprezzare ciò che accade intorno a noi. Ma fermiamoci un attimo. Quanta bellezza c'è in Italia? Parliamo di una bellezza che lascia senza fiato, con nubio di genialità, design, arte, cultura, gastronomia, imprenditoria e tanto altro. Un saper fare che ci contraddistingue e che ci rappresenta nel mondo intero come eccellenza. Ed è proprio questa eccellenza che abbiamo deciso di raccontarvi, attraverso ospiti di grande prestigio. Voi vi chiederete come e dove. Beh, all'interno del nostro ristorante. Li faremo passare tutti di qui, il luogo ideale per scambiare quattro chiacchiere in perfetta intimità. Però, come piace a noi italiani, rigorosamente al dente. Il podcast di eccellenza italiana che racconta l'Italia a regola d'arte.